Gli uomini della Gelmini, e il massacro dei gatti. Il CAV, e i leader della Lega stanno ragionando sull'operazione bicicletta, i due simboli unificati come Nenni e Saragat. Per gli uomini di Gelmini, Carfagna e Brunetta è quasi resa. Il porto è Carlo Calenda. Non sarà partito unico ma sarà quasi certo lista unica. Forza Italia e Lega stanno ragionando sul serio all'operazione bicicletta. Il modello è antico quello tra Psipi e Sedi Unificati, l'alleanza Nenni Saragata alle elezioni del 1966. Una lista, una dicitura, e sotto i simboli dei due partiti, appunto due ruote. Sarebbe questo il vero motivo che ha spinto Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a incontrarsi ad Arcore poche ore fa. Il leader della Lega era accompagnato dal suo uomo di riferimento per quanto riguarda gli argomenti elettorali, Roberto Calderoli. Sono prove di ciclismo politico, di tandem, testimoniate dalla nomina di Lucia Ronzulli a commissario del partito in regione Lombardia, da anni, responsabile dei rapporti con i partiti e da sempre favorevole a un'intesa con la Lega. Il modello è quello siciliano che Salvini sta sperimentando. La dicitura che potrebbe federare è prima l'Italia. Ad accelerare questo processo è stato lo sfogo di Maria Stella a Gelmini, riportato dal Foglio, e la successiva decisione di stabilire la catena di comando in forza Italia. I parlamentari vicini ai ministri, Gelmini, Carfagna, Brunetta dicono ormai, è il grande massacro dei gatti. I gatti sono loro, gli uomini e le donne vicine ai ministri, sono gli scarlatti. Sanno che non saranno ricandidati. Un senatore vicino alla ministra degli affari regionali dice, siamo parlamentari finiti. Io ho ripreso a occuparmi del mio vecchio lavoro. Sono storditi dal colpo inferto sabato sera da Berlusconi. Oggi parlano di catastrofe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.